Ciao a tutti e bentornati a Brutte Storie dove vi parlo di storie brutte. Per chi non mi conosce, ciao, io sono Clara Campi, sono una stand-up comedian, ma questo non è affatto un video divertente, anzi, perché oggi vi parlerò della bruttissima storia di Evelyn Nesbitt, conosciuta come la prima supermodella americana. Prima di iniziare chiedo scusa perché mi sono presa una pausa che è diventata una pausa lunghissima, ma ho sempre un sacco da fare con le ricerche per Crime and Comedy, che è il podcast che conduco con Marco Champié e quindi non ho tantissimo tempo da dedicare alle ricerche per Brutte Storie e quindi da ora in poi farò uscire circa un video al mese. Lo so che è poco, però ogni settimana esce una puntata di Crime and Comedy, quindi mentre aspettate una nuova brutta storia potete ascoltarvi le puntate di Crime and Comedy. Oggi vi racconto una storia decisamente vintage perché si svolge ben 120 anni fa e cioè nel 1901, anno del cosiddetto processo del secolo, ma per arrivare al processo devo iniziare parlandovi di Evelyn Nesbitt. Evelyn nasce il giorno di Natale del 1884, è di famiglia benestante, il padre è avvocato. Tuttavia il padre muore quando lei ha soltanto 10 anni e la famiglia si ritrova ad utilizzare tutti i risparmi nel giro di pochi anni, per cui la madre di Evelyn, Florence, inizia a lavorare in un department store, in un centro commerciale e mente sull'età della figlia per far assumere anche lei. Quindi a 14 anni Evelyn si ritrova appunto a lavorare come cassiera. Finché un giorno mentre al lavoro viene notata da John Storm, un pittore molto in voga all'epoca che le propone di posare per lui. Evelyn accetta e presto si ritrova a posare per diversi pittori di Filadelfia, ritrovandosi presto a guadagnare molto di più tramite questo lavoro che quello che lei e sua madre guadagnavano insieme lavorando al centro commerciale. Florence, la madre di Evelyn, vedendo il rapido successo che sta guadagnando la figlia, decide di investire tutto su di lei. Quindi molla il suo lavoro per diventare la manager di sua figlia. Decide di trasferire la famiglia a New York, dove Evelyn avrà molte più occasioni di lavoro. E in effetti così sarà. Inizialmente Evelyn posa per pittori, poi inizia a posare anche per fotografi e presto il suo viso viene stampato sulle copertine delle più importanti riviste femminili dell'epoca, come ad esempio Cosmopolitan o Vanity Fair. Evelyn presta la sua immagine per qualsiasi pubblicità ed è impossibile sfogliare un giornale senza trovare la sua immagine. Addirittura fa una campagna pubblicitaria per la Coca-Cola. Diventa anche una Gibson Girl, che sono un pochino le precursrici... Pre... precurs... che sono un po' le precursori delle pin-up. Questo fotografo molto famoso, Gibson appunto, faceva queste immagini che ai tempi erano un po' una novità e Evelyn era un pochino la sua ragazza di punta. Nel pieno del successo come modella, Evelyn decide di provare a fare l'attrice e viene assunta come chorus girl, quindi come ragazza del coro, nel musical Flora Dora. Inizialmente la madre non era d'accordo, perché ai tempi le attrici erano considerate donne di facili costumi... cioè anche adesso... però ai tempi molto molto peggio. In realtà anche le modelle, quindi non vedo la differenza, soprattutto perché Evelyn aveva anche fatto degli scatti un po' risché. Sua madre sostiene di non aver mai permesso che sua figlia posasse nuda, però ci sono delle foto che confermano il contrario. Quindi sua madre può anche far finta di avere questo senso morale che in realtà non ha. Quindi all'inizio non vuole che sua figlia diventi un'attrice, ma quando scopre che molto spesso le attrici di Broadway si ritrovano a sposare dei milionari, improvvisamente cambia idea e quindi Evelyn inizia questa nuova avventura. Effettivamente da subito attira l'attenzione degli uomini più ricchi di New York, tra cui Stanford White. Stanford, quest'uomo da questi baffi gloriosi, è un architetto 47enne sposato con figli. È un architetto famosissimo, è infatti il creatore del Washington Square Garden, no non questo Washington Square Garden, quello che c'era prima, ok? Non l'aveva progettato così ai tempi. E del Washington Square Arch, nel Washington Square Park, quello invece è ancora lì anche se l'hanno un po' modificato. Stanford si fa presentare Evelyn da una sua collega e inizia di invitarla fuori sempre più spesso per bere qualcosa insieme o per cena. Inizialmente la invita con altri amici, quindi si trovano sempre in gruppo. Poi mano a mano inizia ad invitare solamente lei e un giorno le mostra il suo ufficio dove Stanford aveva un'altalena di velluto rosso su cui amava vedere giovani ragazze che dondolavano, di solito poco vestite. Quindi giustamente anche Evelyn inizia a dondolare in questa altalena di velluto rosso. Stanford inizia subito a presentarla a produttori e registi e ad aiutarla con la sua carriera. Poi chiede ad Evelyn di conoscere sua madre e inizia a fare amicizia con Florence. Amicizia nel senso che inizia a riempirla di soldi. Le trova un'altra sistemazione dove vivere, poi trova una scuola privata per il suo secondo figlio e lo fa iscrivere a questa scuola pagando lui la retta. Quindi insomma inizia un pochino a comprarsi sia Evelyn che sua madre. Quando Florence chiede a Stanford i soldi per fare un viaggio a Philadelphia, perché appunto a questo punto loro si sono trasferite a New York, vi ricordo, Stanford gli dice ma certo Florence tutti i soldi che vuoi non ti preoccupare per tua figlia la tengo d'occhio io. Vi ricordo che Evelyn a questo punto ha 16 anni e Stanford 47. Stanford effettivamente tiene d'occhio Evelyn, la porta in giro, la porta a cena, la porta sempre a conoscere i suoi amici ricchi e famosi e poi un giorno la invita ad una festa a casa sua. Evelyn arriva e in casa non c'è nessuno. C'è solo Stanford che però gli dice ma sì non ti preoccupare possiamo fare festa io e te e inizia a offrirle dello champagne. Più avanti Evelyn racconterà di come questo champagne avesse un sapore particolarmente amaro e di come di lì a poco avesse perso i sensi. Quando Evelyn si risveglia si ritrova nuda a letto e accanto c'è Stanford nudo anche lui. Evelyn si guarda tra le gambe e nota del sangue. Quindi a quel punto rendendosi conto di quello che era successo inizia ad urlare e Stanford subito cerca di tranquillizzarla. Le dice ma no piccola mia la chiamava piccola mia la chiamava proprio my child che se ci pensate rende una situazione già terribile ancora più terribile. Comunque dice ma no non piangere non ti preoccupare non è successo assolutamente niente di strano semplicemente da adesso in poi sei mia. Ecco Evelyn non la prende bene. Stanford cerca di convincerla in tutti i modi che quello che hanno fatto è una cosa normalissima che fanno tutte le persone ma che però non bisogna assolutamente parlarne in giro e fa promettere ad Evelyn di non dirlo a nessuno nemmeno a sua madre perché la cosa le avrebbe rovinato la reputazione. E purtroppo questo era vero cioè far sapere a qualcuno che Stanford l'aveva drogata e stuprata avrebbe sì creato problemi alla reputazione di Stanford che tra l'altro era sposato con figli piccolo particolare ma sicuramente avrebbe distrutto la reputazione di Evelyn perché insomma si sa che una donna se viene stuprata è perché se l'ha andata a cercare no? E quindi Evelyn non ha altra scelta che abbozzare e continuare a frequentare Stanford che comunque è anche il suo benefattore è la persona che la mantiene la persona che mantiene sua madre è la persona che mantiene suo fratello ed è anche la persona che spesso le procura dei lavori quindi senza di lui Evelyn non saprebbe dove sbattere la testa e quindi non può fare altro che piegarsi al ricatto che poi era quello che Stanford White voleva dall'inizio e ora non voglio spoilerare però Stanford non è che questa cosa l'ha fatta solo con Evelyn era abituato a farla un po' con tutte e infatti di lì a poco Evelyn trova un piccolo libricino nero di Stanford lo apre e dentro ci sono segnati i nomi di tantissime ragazze quasi tutte attrici di Broadway tutte molto molto giovani con il loro nome la loro data di nascita e accanto ad alcune c'era una V e anche il nome di Evelyn era nel libricino e accanto al suo nome c'era una V insomma Stanford proprio gran signore gran signore a quel punto però Evelyn un po' si indispettisce perché essendo una sedicenne quindi assolutamente ingenua ed essendo nonostante tutto anche affascinata da Stanford perché insomma io sfido chiunque a non essere affascinata da qualcuno con quei baffi ok quindi è comprensibile la cosa comunque si era fatta un po' una storia d'amore nella sua testa lei pensava sì Stanford è sposato ma sicuramente non ama sua moglie in realtà ama me e un giorno prima o poi riusciremo a sposarci e invece ora si rende conto che Stanford ha un sacco di relazioni con ragazze su coetane e quindi decide di smettere di perdere tempo dietro a lui mantiene comunque rapporti amichevoli perché ricordiamoci che Stanford continua a essere quello che paga tutto per lei e per la sua famiglia ma inizia a frequentare anche altri uomini tra cui John Barrymore che sì è il nonno di Drew Barrymore tra lei e John nasce una vera e propria storia d'amore e John le chiede di sposarlo Evelyn avrebbe accettato ma sua madre ovviamente si mette in mezzo perché John Barrymore che presto sarebbe diventato milionario anche lui ai tempi era ancora un po' uno squattrinato e poi insomma dai che brutta cosa cioè John Barrymore aveva solo due anni in più rispetto a Evelyn non va bene bisogna prendere almeno un 50enne chiaro questo viene dal manuale della mamma perfetta scritto da Florence comunque Florence si mette in mezzo e chiede aiuto anche a Stanford dice Stanford fai qualcosa perché mia figlia non si sposi questo allora Stanford inizialmente cerca di convincere Evelyn sulla parole le dice che John non va bene per lei che John è un ubriacone cosa che era abbastanza vera ma ai tempi bevevano tutti quindi non c'era tanta differenza e infine le propone di finanziare una scuola una specie di collegio in cui lei può andare per imparare tutto quello che le servirà per diventare una brava moglie e per abbandonare le scene e Evelyn accetta accetta quindi non sposa John Barrymore e va in questo collegio tuttavia dopo poche settimane al collegio Evelyn si sente male e deve essere operata di appendicite e quindi Stanford manda il suo medico personale per curarla allora non lo sappiamo perché non lo sappiamo ma pare che appendicite fosse un eufemismo per aborto probabilmente ripeto non sappiamo nulla con certezza Evelyn era rimasta incinta di John Barrymore e Stanford ha voluto intervenire per evitare di svergognarla con questa gravidanza fuori dal matrimonio oppure per evitare un matrimonio riparatore perché per qualche motivo Stanford non voleva che Evelyn si sposasse John Barrymore forse perché pensava di non potersela più bombare una volta sposata non lo so comunque motivazioni nobili sicuramente dopo l'operazione Evelyn si ferma per un certo periodo in una casa di cura per rimettersi e le inizia a ricevere visite da Henry Thaw. Henry è un ereditiero milionario molto molto eccentrico uno di quelli che si accendeva i sigari con le banconote e ha 32 anni a questo punto quindi comunque molto più vecchio di Evelyn ma meno vecchio di Stanford se non altro. Henry e Evelyn in realtà si conoscevano già di vista Henry aveva anche provato a corteggiarla ma Evelyn non era interessata perché appunto era presa da John Barrymore e non gli aveva dato molta corda tuttavia Henry approfittando del fatto che ora lei è incastrata in questa casa di cura aspettando di stare meglio la va a trovare praticamente ogni giorno e la corteggia la corteggia in ogni modo ma lei sta un po sulle sue si pensa che probabilmente non fosse particolarmente attratta da Henry che però era molto gentile con lei nonostante appunto fosse una persona molto bizzarra però nei confronti di Evelyn era un perfetto gentiluomo e poi sì c'è anche questo piccolo dettaglio che era milionario quindi quello rende tutti un po più belli e quindi quando Henry le propone di fare un tour dell'Europa insieme a lui lei accetta in realtà non è convintissima però a questo punto lei vuole allontanarsi definitivamente da Stanford e comunque puoi cercare anche un altro futuro marito visto che ormai John Barrymore si era trovato un'altra ragazza. Quando Evelyn chiede a sua madre di accompagnarla in questo viaggio in Europa con Henry la madre va a parlare con Stanford White ovviamente che cerca di convincere madre figlia a non partire perché Harry è una persona pessima c'è un motivo se Harry non è accettato in nessuno dei club di milionari della città è perché ha una cattiva reputazione fa uso di droghe va a prostitute una persona che spesso ha degli attacchi di rabbia è violento insomma è la peggiore persona del mondo secondo Stanford White tuttavia Evelyn decide di partire con Harry perché alla fine perché deve credere alle cose che gli dice sto vecchio che l'ha drogata e stuprata no? Oltretutto Harry aveva già parlato a Evelyn del suo rapporto con Stanford i due erano praticamente nemici giurati anche se non ho capito perché cioè in realtà Harry era arrabbiato perché Stanford aveva fatto in modo che lui venisse cacciato via dall'unico club per milionari in cui era riuscito ad entrare però non ho capito perché Stanford ci tenesse così tanto a cacciare via Harry insomma cazzi loro comunque si odiavano a morte e quindi non è un caso che Harry va a sedurre l'oggetto del desiderio di Stanford ok? Cioè alla fine Evelyn è solo un altro modo per litigare di questi due milionari deficienti perché questo sono comunque Evelyn parte per il suo viaggio in Europa ed è un viaggio da sogno passano molto tempo a Parigi però veramente visitano proprio tutta l'Europa stanno settimane settimane Harry la riempie di regali la porta dai migliori stilisti le prende abiti firmati la ricopre di gioielli e poi inizia a chiederle di sposarlo e dico inizia perché inizia a farlo in modo ossessivo compulsivo cioè tipo da quel momento in poi glielo chiede tutti i giorni e Evelyn non sa mai cosa rispondere di base perché non lo vuole sposare e poi anche perché Harry era un po' ossessionato da quella che lui chiamava la purezza femminile quindi era uno di quegli uomini per cui era molto importante che una donna arrivasse vergine al matrimonio e Evelyn non era vergine per via appunto dell'aggressione di Stanford e poi perché forse aveva avuto una tresca con John Barrymore però questo non è stato confermato un giorno che Harry non la smetteva più di chiederle ma perché non mi vuoi sposare ma perché ma perché ma perché Evelyn esplode e decide di dirgli tutto perché in realtà Evelyn sta valutando se accettare la proposta di Harry però insomma sa che lui vuole una moglie vergine e lei non vuole iniziare il matrimonio con una bugia quindi con enorme difficoltà racconta Harry di quella notte in cui Stanford l'ha drogata e stuprata. Harry reagisce con uno scatto di rabbia lui era portato agli scatti di rabbia quindi non era una cosa particolarmente strana però qua inizia a piangere in modo sconsolato a spaccare le cose. Evelyn è abbastanza spaventata dalla reazione finché Harry l'abbraccia e le dice Stanford è una bestia ma è tutta colpa sua tu non hai perso di valore ai miei occhi ti voglio sposare comunque. A quel punto Harry scaccia Florence dal viaggio in Europa la rispedisce negli Stati Uniti perché dice che lei non è stata una brava madre a lasciare sua figlia nelle grinfie di Stanford e continua il viaggio da solo con Evelyn. La madre appena torna a New York va subito a parlare con Stanford chiedendo spiegazioni e Stanford dice che lui assolutamente no non avrebbe mai toccato Evelyn è solamente che Harry ce l'ha con lui e quindi sono tutte balle. Nel frattempo invece in Europa Harry decide che visto che Evelyn non è più vergine non c'è bisogno di aspettare fino al matrimonio e quindi pare che la aggredisca sessualmente. Quando la copia torna a New York Evelyn scopre con orrore che Harry ha raccontato a tutti della violenza sessuale subita da Stanford. Chiaramente Harry l'ha fatto per mettere in cattiva luce il suo nemico Stanford però come danno collaterale ora la reputazione di Evelyn ne sta soffrendo parecchio. Evelyn ovviamente si sente svergognata ed è molto arrabbiata con Harry ma allo stesso tempo si rende conto che da adesso diventerà molto molto più difficile trovare un marito con queste voci che girano sul suo conto e quindi inizia a considerare appunto di sposare Harry. Tuttavia prima ne parla con sua madre che ovviamente tira di nuovo in ballo il solito Stanford White che le dice assolutamente di non sposare Harry Thaw che è una persona pericolosa e addirittura porta a cena un avvocato che si era occupato di difendere una vittima di Harry Thaw e che racconta a Evelyn di come Harry abbia sul gruppone diverse denunce per aggressione ma che la sua famiglia milionaria aveva ogni volta pagato per insabbiare tutto. Tuttavia Harry riesce a convincerla che tutte queste cose sono solo voci che Stanford vuole rovinare la reputazione insomma la solita cosa e quindi Evelyn anche sentendosi di non avere un'altra possibilità perché appunto Stanford era già sposato. Harry la voleva sposare ed era comunque multimilionario e poi avendo messo in giro le voci che poi non sono voci però avendo raccontato a tutti dello stupro subito da Stanford probabilmente nessun uomo avrebbe voluto sposarla e quindi Evelyn si sente che sposare Harry Thaw è la sua unica opzione e lo fa. Tuttavia la madre di Harry non approvava assolutamente Evelyn perché diceva che era una sgualdrina ovviamente cioè tu vieni stuprata e sei una sgualdrina ok e quindi si rifiuta di pagare per il matrimonio quindi Evelyn sposa un multimilionario con una cerimonia assolutamente modesta e tra l'altro per desiderio dello sposo si sposa con addosso un abito nero insomma ti fa sperare bene per il futuro no un buon buon presagio un abito nero al matrimonio cioè capisco non il bianco però nero vabbè comunque la coppia si trasferisce a Pittsburgh e il matrimonio non va benissimo perché poco dopo il matrimonio Harry inizia ad avere sempre più scatti di rabbia e inizia ad essere sempre meno e meno quell'uomo cavalleresco che l'aveva accompagnata nel viaggio in Europa quindi per cercare di risollevare un pochino il matrimonio i due decidono che è arrivata l'ora di un secondo viaggio in Europa e per andare in Europa si devono imbarcare a New York quindi i due si organizzano per passare qualche giorno a New York rivedere vecchi amici e poi partire per andare in Europa mentre sono a New York Harry insiste per andare a vedere un musical al Washington Square Garden che aveva sul tetto un teatro all'aperto molto frequentato dal jet set della città e Evelyn accetta e anche contenta perché probabilmente incontrerà alcune delle sue ex colleghe comunque conosce la gente di teatro però è perplessa perché normalmente Harry non voleva mettere piede al Madison Square Garden essendo stato costruito dal suo arci nemico i due con degli amici vanno al teatro ma lo spettacolo non è un granché e quindi si mettono d'accordo per andarsene via durante l'intervallo solo che prima dell'intervallo ad un certo punto Evelyn nota tra il pubblico Stanford White e si rende conto che anche suo marito l'ha visto di lì a poco non trova più suo marito e guardandosi intorno lo vede che si sta avvicinando al tavolo di Stanford tenendo in mano una pistola all'improvviso spara tre colpi il primo nella spalla di Stanford e gli altri due in faccia Stanford muore sul momento il pubblico non sa bene cosa pensare all'inizio confuso perché crede che sia una parte dello spettacolo e poi anche perché in quel periodo i ricchi milionari amavano fare gli scherzi si non sto scherzando cioè io non sto scherzando cioè loro veramente si divertivano a fare questi scherzi deficienti dove sembrava che qualcuno moriva in una situazione pubblica o cose di questo tipo quindi all'inizio le persone non pensano che Stanford sia morto veramente c'è un po di confusione che però di lì a breve diventa panico a quel punto Henry solleva la pistola e apre il caricatore e fa cadere tutti i proiettili per far vedere che non può sparare più a nessuno e ovviamente di lì a poco viene arrestato durante l'arresto dichiara l'ho fatto perché Stanford White ha rovinato mia moglie quindi ovviamente questo diventa subito un caso mediatico e tutti iniziano a parlare della vita privata di Stanford e ovviamente della vita privata di Evelyn e a questo punto succede una sorta di me too perché praticamente molte attrici si fanno intervistare dai giornali per parlare del fatto che anche loro erano state aggredite o molestate da Stanford White e che c'era un vero e proprio circolo di milionari che si divertiva ad approfittarsi delle giovani attrici è bello vedere che in un secolo non è tipo cambiato niente comunque l'opinione pubblica tende ad essere dalla parte di Harry che viene visto un pochino come il principe azzurro che difende l'onore di sua moglie la madre di Harry immediatamente assume i migliori avvocati sulla piazza e perché Harry si rifiuta di dichiararsi incapace di intendere di volere e pretende di avere un processo gli avvocati decidono di puntare tutto su una temporanea infermità mentale e quindi costringono Evelyn a testimoniare e quindi a raccontare davanti alla giuria alle persone che assistevano al processo e soprattutto davanti ai giornalisti dell'aggressione subita da Stanford rovinandosi così definitivamente la carriera. L'accusa ovviamente dice che Evelyn se l'è cercata che insomma se andava da sola a casa di Stanford era perché sapeva benissimo che avrebbero fatto sesso e poi il fatto che lei abbia continuato a frequentare Stanford dopo l'aggressione prova che non c'è stata nessuna aggressione e che era tutto assolutamente consensuale. Insomma non è cambiato niente come ho detto prima in tutto questo però vorrei ricordare sempre quella piccolissima questione che lei ha 16 anni e lui 47 lei 16 lui 47 però è lei che se l'è cercata ok quello che viene definito il processo del secolo finisce con un mistrial perché praticamente la giuria non riesce a raggiungere l'unanimità e quindi bisognerà fare un secondo processo in cui Evelyn dovrà di nuovo testimoniare. Al termine di questo secondo processo Harry viene dichiarato incapace di intendere e di volere e rinchiuso in un istituto psichiatrico che alla fine erano quello che volevano gli avvocati e la madre di Harry perché erano convinti che avrebbero potuto scegliere loro l'istituto in cui mettere Harry e invece no il giudice lo mette in un istituto statale e nonostante i numerosissimi tentativi di corruzione da parte di sua madre non riescono a far rilasciare Harry per cinque anni. Durante questi anni la madre di Harry continuava a chiedere al figlio di divorziare dalla moglie anzi di chiedere l'annullamento e cerca di mettere suo figlio contro sua moglie raccontando di presunte infedeltà da parte di Evelyn e cose di questo tipo e poi fa un'offerta ad Evelyn le chiede di presentare una richiesta di annullamento del matrimonio e in cambio le promette un sacco di soldi. Evelyn a questo punto decide di accettare perché durante le visite a suo marito lui la tratta sempre peggio probabilmente anche perché è influenzato dalla madre e lei onestamente non ce la fa più quindi accetta questo accordo e presenta la richiesta di annullamento tuttavia di lì a poco scopre che gli assegni che gli ha dato la madre di Harry erano scoperti quindi sì la madre di Harry che è multimilionaria sta cercando di prenderla in giro sperava che Evelyn non cercasse di incazzare gli assegni prima che fosse finita la procedura dell'annullamento ma così non è stato e quindi Evelyn ferma la procedura dell'annullamento a quel punto però Harry si arrabbia e smette di mandarle il mantenimento e in pratica le dichiara guerra. Evelyn quindi si ritrova senza nulla e decide di trasferirsi in Germania dove darà alla luce suo figlio Russell Thaw che lei sostiene ovviamente essere figlio di Harry Thaw solo che l'ultima visita all'istituto dove stava Harry risaliva a più di un anno prima rispetto alla nascita del bambino quindi è un po' difficile che sia effettivamente figlio di Harry comunque non ci interessa a questo punto gli avvocati di Harry riescono ad ottenere un'udienza per cercare di farlo rilasciare dall'istituto psichiatrico e ovviamente Evelyn viene di nuovo richiamata a testimoniare ma stavolta ha qualcosa in più da dire inizia a raccontare di tutte le volte che Harry è stato violento con lei delle minacce ricevute tra cui anche minacce di morte e del fatto che lui si appunto rifiuta di mantenere suo figlio che però Harry sostiene non essere suo figlio quindi non entriamo in questo discorso. Oltre a Evelyn arriva anche una nuova testimone e cioè una signora che affittava il suo studio a Harry così che Harry potesse organizzare delle finte audizioni per aggredire sessualmente delle aspiranti attrici. È sempre qua finiamo. La signora testimonia anche di aver sentito delle grida terribili provenire da questa stanza e anche dei rumori di frusta solo che ovviamente poi Harry pagava sia le vittime sia eventuali testimoni per tenere la bocca chiusa e quindi ha continuato a torturare gente per anni indisturbato forte della sua ricchezza. Ovviamente Harry non viene rilasciato e quindi sua madre che sta spendendo veramente una fortuna per la difesa di questo suo figlio fuori di testa organizza una fuga cioè assume dei mafiosi che praticamente lo fanno evadere dall'istituto psichiatrico e lo portano in Canada. Una volta arrivato in Canada in realtà viene subito riconosciuto perché proprio quel giorno c'era una sua foto sul giornale quindi lo riconoscono immediatamente. Il Canada non lo vuole restituire agli Stati Uniti per due motivi. Prima di tutto perché anche l'opinione popolare canadese era tendenzialmente dalla parte di Harry e poi perché insomma probabilmente i soldi di Harry erano arrivati a corrompere un po' di gente come al solito e quindi il Canada decide di fare una cosa un po' strana cioè riporta Harry negli Stati Uniti ma senza avvisare il governo degli Stati Uniti quindi lo mollano in New Hampshire e arrivi lì per 18 mesi tranquillo sereno facendo feste finché il governo di New York finalmente lo becca e lo ricattura. A questo punto c'è un ennesimo processo per stabilire se Harry fosse sano di mente o no e questa volta viene trovato sano di mente e rilasciato. Per tutto questo processo la madre di Harry ha speso un milione di dollari. Un milione di dollari nel 1900 che adesso sarebbero oltre 27 milioni di dollari. E qui sembra concludersi la vicenda con Harry Thaw ma in realtà due anni dopo a questo punto siamo nel 1917 arriva un'altra accusa nei suoi confronti. Praticamente a questo punto Harry conosce Fred Gump un ragazzo del Kansas di 18 anni e si offre di aiutarlo ad entrare al Carnegie Institute of Technology a Pittsburgh e di inserirlo nel suo programma di borse di studio. Il ragazzo ovviamente accetta e Harry gli propone di passare qualche giorno insieme a New York. Quindi il ragazzo va, si divertono, vanno a teatro, escono a cena, tornano in albergo dove Harry aveva preso un'unica suite per entrambi e mentre Fred è nella vasca da bagno Harry apre la porta e entra armato di una frusta e inizia a frustare questo povero ragazzino dicendo di sottomettersi a lui e di essere il suo schiavo. Purtroppo per tutta la notte il ragazzo non riesce a fuggire perché Harry aveva chiuso a chiave la stanza e il ragazzo non è riuscito a trovare le chiavi e però la mattina dopo riesce a fuggire e sale sul primo treno per il Kansas e torna a casa. A quel punto ne parla con i genitori e tutti insieme denunciano Harry e Thaw e stavolta la madre non ha abbastanza soldi per pagare per insabbiare la cosa perché probabilmente si era leggermente rovinata con tutto il processo e quindi Harry si ritrova di nuovo braccato dalla polizia e decide di togliersi la vita quindi si taglia le vene ma subito dopo la cameriera lo trova e chiama i soccorsi e Harry viene salvato per un pelo solo che a questo punto si decide di metterlo in un istituto psichiatrico anche se stavolta era un istituto privato dove lui è comunque riuscito a mantenere un po' del suo lifestyle fino alla fine dei suoi giorni. Tornando ad Evelyn tutta questa vicenda giudiziaria ovviamente come ho già detto le ha rovinato la reputazione e per lei ci sono pochi sbocchi rimasti. Uno di questi è il cabaret e si ritrova a lavorare come ballerina di burlesque e come cantante nei dinner theater. Poi decide di trasferirsi a Los Angeles e riesce a lavorare come attrice in otto film. Nel 1955 lavora come consulente al film l'altalena di velluto rosso che è appunto un film tratto dalla storia della sua vita se volete lo trovate in giro non è un gran film ed è super 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 mega romanzato cioè la storia non è esattamente come andata non è neanche lontanamente come andata praticamente cioè stanford diventa un eroe romantico invece di essere un vecchio bavoso stupratore e poi soprattutto l'attore che fa stanford white non ha i baffi cioè stanford una cosa buona aveva i baffi e non glieli metti nel film quindi vabbè non consiglio tanto questo film ma comunque Evelyn tuttavia non riuscirà mai a raggiungere il successo a Los Angeles e si manterrà lavorando come insegnante di scultura. Evelyn Nesbitt muore a 82 anni in una casa di riposo a Santa Monica e questa era la bruttissima storia della prima supermodella americana. In realtà supermodella secondo me non ci azzecca tanto come termine perché tendenzialmente pensiamo a modelle che sfilano in passerella lei invece alla fine era una fotomodella e questa era una storia veramente veramente triste perché stiamo parlando di una ragazzina che si ritrova in mezzo a una stupida guerra tra due miliardari deficienti e si ritrova la sua vita e la sua carriera rovinata senza aver fatto niente in realtà è stata veramente una vittima del sistema e una vittima di sua madre che obiettivamente puntava solamente ai soldi e non era molto interessata alla serenità di sua figlia. Comunque fatemi sapere se conoscevate questa storia secondo me era super interessante ci tenevo tanto a raccontarvela se volete consigliarmi altre brutte storie potete farlo nei commenti qua sotto e io vi saluto vi do appuntamento a non so quando penso tra un mesetto nel frattempo vi ricordo ascoltate sempre Crime and Comedy anche quello ve lo linko qua sotto e seguitemi sui social mi trovate su Instagram e su TikTok lo username è sempre Clara Campi Comedy anche se su TikTok più che altro parlo di true crime mentre invece su Instagram parlo di spettacoli stand up comedy quindi due cose un po' diverse comunque seguitemi anche lì non seguitemi su Facebook perché Facebook è il social del demonio ciao ragazzi e alla prossima